No Lunedì 2 novembre, commemorazione dei defunti. È il 307 giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 59 al termine. Il sole sorge alle 6.52, tramonta alle 16.56. La luna sorge alle 18.08, tramonta alle 8.26. Muore a Venezia il doge Giovanni D'Andolo. Sotto il suo principato si coniò per la prima volta il ducato d'oro o zecchino veneziano. La moneta, che recava inciso sul fronte la figura del doge incinocchiato ai piedi di San Marco e sul verso il Cristo Benevicente, fu apprezzata in tutti i mercati e durò fino alla caduta della Repubblica e anche oltre, vista la purezza intrinseca del metallo. Le previsioni per domani Precipitazioni assenti Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con varie nebbie fino all'alba in dissolvimento al mattino e di nuova formazione di sera Sui monti sereno, poco nuvoloso, eccetto nebbie o nuvi basse sulle zone prealpine fino a metà mattina e di sera Temperature in aumento sulla pianura, stazionari nelle valli ed in calo in alta montagna Precipitazioni assenti Precipitazioni assenti